Sono Riccardo Piras, responsabile del Patronato Epaca Coldiretti di Piacenza. Da oltre 60 anni forniamo assistenza ai cittadini su salute, pensioni, famiglia e welfare. Aiutiamo i lavoratori di tutti i settori produttivi, dipendenti, agricoltori, artigiani e commercianti nella tutela dei propri diritti. Hai avuto un infortunio sul lavoro? Un infortunio sul lavoro può portare a una mancata entrata economica. Le spese mediche possono essere molto alte, soprattutto in caso di interventi chirurgici e riabilitazione. I contenziosi legali possono immobilizzare eventuali risarcimenti economici. L'allontanamento dal lavoro spesso causa problemi psicologici e sociali da stress traumatico. Epaca ti assiste per preparare la documentazione e inviare la pratica all'Inail. Epaca può fornire consulenza legale all'infortunato per tutelare i diritti. Epaca ti assiste nell'iter per il riconoscimento dei tuoi benefici. Epaca si avvale di avvocati e medici legali per fornirti tutta l'assistenza necessaria. Siamo in tutta la provincia di Piacenza. Vai sul sito www.epaca.it e trova l'ufficio più vicino a te. O rivolgiti alla sede provinciale in via Colombo 35 a Piacenza chiamandolo 0523-596-560. Con Epaca nessuno è solo. Epaca aiuta tutte le persone a ritrovare la propria serenità.